Workout PHA intenso e dinamico, allenamento senza salti, esercizi a corpo libero e con pesetti, 30 secondi di esercizio e 10 secondi di recupero. Iniziamo! Ok, iniziamo questo super workout modalità PHA, skip più movimento orario delle spalle, scaldiamo bene la parte alta, scaldiamo bene la parte bassa, prima di iniziare questo super workout PHA, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, skip alto, rotazione anti-oraria, coordina bene i due movimenti, inizia con la respirazione naso-bocca, alzo un ginocchio, alzo l'altro ginocchio, mantengo il movimento anti-orario delle spalle, 3, 2, 1, torsione tronco, piego leggermente le gambe, movimento lento e controllato senza forzare il movimento del tronco, respirazione sempre attiva, attiviamo l'addome, respira, 5, 4, 3, 2, 1, movimento pectoral più spinte senza pesi, chiudiamo e alziamo, chiudiamo e alziamo, respira, mantieni sempre le gambe leggermente piegate, 10 secondi e passiamo a pugno incrociato, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, pugno incrociato, destra e sinistra, sposto il piede, pugno veloce, rapido, addome contratto, vai, 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 respirazione sempre attiva, 10 secondi, mantengo il movimento, non rallentare, tra 5 secondi spinta ad una gamba, 2, 1, cambio, spinta ad una gamba, mezzo squat, piccolo slancio laterale, inizio a lavorare braccia e gambe sincronizzato, vai, scendo e spingo, scendo e spingo, respirazione attiva e poi cambiamo gamba, 5, 4, 3, 2, 1, cambio dall'altra parte, sempre mezzo squat e allungo la gamba, mezzo squat e allungo la gamba, respirazione attiva, addome contratto, utilizzo le braccia, fianco centrale, fianco centrale, 4, 3, 2, 1, cambio, mezzo squat, attiviamo bene i glutei, le gambe, movimento lento, controllato, respirazione sempre attiva, in mezzo squat è un leggero piegamento, mantengo il ritmo, 4, 3, 2, 1, cambio, v-step, due passi avanti, due passi dietro, i due passi in avanti sono aperti, i due passi dietro sono chiusi, vai, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, squat più calcio frontale, inizio il circuito PHA, vamos, scendo in squat, calcio frontale, deciso, vado giù in squat e calcio, vado giù in squat e calcio, mantengo il movimento, un bello squat e un calcio deciso, giù, calcio, giù, calcio, così, 10 secondi, non rallentare, mantieni il ritmo, respira, 4, 3, 2, 1, breve recupero, 10 secondi, riprendi fiato, prendiamo i pesi, ripartiamo, bicipiti a martello più spinta in alto, 3, 2, 1, vai, piego leggermente le gambe, allargo bene le braccia, salgo e spingo su, così, giù, chiudo, scendo, martello, salgo, spinta sopra la testa, mantengo il ritmo, separo bene i movimenti, allargo sopra la testa, scendo, chiudo, bicipite e martello, vai, sali, giù, chiudo e allungo, 3, 2, 1, recupero attivo, appoggiamo i pesi, passo laterale su mezzo squat, tra 4, 3, 2, 1, vai, un piccolo passo a destra e un piccolo passo a sinistra, mantengo la posizione di mezzo squat, non salire con i glutei, mantieni la posizione, addome contratto, utilizzo le braccia per l'equilibrio del movimento e mantengo il ritmo da una parte e dall'altra, vai, vai, resisti, facciamo lavorare gambe e glutei, mantieni, 5, 4, 3, 2, 1, ottimo, recupero attivo, 10 secondi, ripartiamo con i pesi, tricipiti, busto a 45 gradi, 3, 2, 1, vai, posizione, piego le gambe, busto in avanti, gomiti bloccati, allungo bene, allungo bene il braccio, lavoriamo sui tricipiti, respirazione sempre attiva, testa dritta, in linea con il corpo, addome contratto, gambe leggermente piegate e spingo dietro e spingo dietro, 10 secondi, mantieni il ritmo, respirazione attiva, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo 10 secondi, appoggio i pesi, affondo indietro alternato, andiamo a lavorare sulle gambe, 3, 2, 1, vai, affondo indietro alternato, utilizzo le braccia, addome contratto, il ginocchio sfiora il pavimento senza toccare, mantieni il ritmo, respira, respirazione sempre attiva per non andare in affanno, vado dietro e ritorno, vado dietro e ritorno, attiviamo le gambe e i glutei, mantieni il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, ritorniamo a lavorare la parte sopra, con le spinte in alto, 3, 2, 1, vai, gambe leggermente piegate, spingo i pesi sopra la testa, movimento lento e controllato, lavoriamo prima la parte alta, prima la parte bassa, è il metodo PH, mantieni, non rallentare, mantieni il ritmo, lavoriamo sulle spalle, 10 secondi, resisti, sentirai le spalle bruciare, resisti, mantieni il ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, breve recupero attivo, appoggiamo i pesi e ritorniamo nella parte inferiore, 5, 4, 3, 2, 1, squat più gomito ginocchio incrociato, vado giù, salgo, salgo molto col ginocchio, faccio gomito ginocchio, squat, gomito ginocchio, squat, gomito ginocchio, mantengo il ritmo, separo i tre movimenti, gomito ginocchio squat, respirazione sempre attiva, non rallentare, mantieni il ritmo, ancora 10 secondi, resisti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, bicipiti in tre tempi, ritorniamo a lavorare la parte alta, tra 3, 2, 1, bicipiti a tre tempi, bicipiti completi, scendi fino al gomito, sali fino al gomito, guarda bene il video, cura bene la tecnica dell'esercizio, segui l'indicazione, allungo, metà, allungo, salgo fino in cima, metà, mantieni il ritmo, respiro, respirazione sempre attiva, gambe leggermente piegate, salgo, allungo, metà, allungo e salgo su, 3, 2, 1, recupero attivo, appoggiamo i pesi, passiamo su plank ginocchio al gomito, tra 3, 2, 1, vai, plank ginocchio al gomito, addome contratto, braccia tese, respirazione attiva, avvicino il gomito al ginocchio, mantengo il ritmo, lavoriamo l'addome, lavoriamo il lombare, vai, resisti, non rallentare, 10 secondi, resisti ancora, destra, sinistra, destra, sinistra, 3, 2, 1, recupera, 20 secondi, ripartiamo in step touch, 3, 2, 1, vai, step touch, approfitta per respirare, per scaricare un attimo, respira, passettini brevi a destra e a sinistra, muoviamo anche le braccia, 10 secondi, ripartiamo con v-step, tra 4, 3, 2, 1, ok, vado col v-step, 2 passi larghi in avanti, 2 passi stretti dietro, 2 passi aperti, 2 passi chiusi, mantengo il ritmo, mi coordino con le braccia, 10 secondi, poi passiamo squat più calcio frontale, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, squat più calcio frontale, secondo giro, vado in squat, calcio frontale deciso, squat calcio, squat calcio, vamos, squat calcio, mantieni il ritmo, resisti, secondo giro, non ti fermare, non rallentare, segui il video, 10 secondi, squat calcio frontale, squat calcio frontale, fai lavorare anche le braccia, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, prendiamo i pesi, bicipiti a martello più spinta in alto, 5, 4, 3, 2, 1, leggermente piegate le gambe, salgo, apro e spingo sopra, mantengo il ritmo, martello, salgo e spingo sopra la testa, respirazione sempre attiva, separo i tre movimenti, bicipiti a martello, allargo, spinta in alto, vai, 10 secondi, lavoriamo su bicipite spalle, resisti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, passo laterale su mezzo squat, 5, 4, 3, 2, 1, vai, mezzo squat, mantengo il mezzo squat, passo laterale a destra e a sinistra, busto in avanti, mantengo le braccia per la stabilità, sposto da una parte e dall'altra, movimento lento, continuato, controllato, approfitto per respirare, naso, bocca, 10 secondi e facciamo un piccolo recupero da 10 secondi, vai, vai, 3, 2, 1, 10 secondi di recupero, respiro, tricipite, busto a 45 gradi, tra 4, 3, 2, 1, piego leggermente le gambe, busto in avanti, gomito bloccato, allungo bene il braccio, vado a lavorare sul tricipite, focus tricipite, addome contratto, respirazione sempre attiva, collo dritto, 15 secondi, allunga bene il braccio, allunga bene il braccio, il gomito è fermo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, appoggiamo i pesi, affondo indietro alternato, 4, 3, 2, 1, vai, affondo indietro alternato, alterno l'affondo destro e sinistro, il ginocchio sfiora il pavimento, utilizzo le braccia, non per bellezza ma per tecnica e stabilità, è importante lavorare braccia e gambe sincronizzato, vai, 10 secondi, resisti, non rallentare, mantieni il ritmo, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1, recupero attivo 10 secondi, respira, ripartiamo, spinta in alto, 5, 4, 3, 2, 1, gambe leggermente piegate, movimento controllato, spingo con i manubri sopra la testa, li posso far toccare per la massima spinta, salgo, salgo, mantengo la respirazione attiva, non rallentare anche se ti bruciano le spalle, continua, resisti ancora, 10 secondi, metodo pha, lavoriamo prima la parte alta, poi la parte bassa, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, ripartiamo, parte bassa, squat più gomito ginocchio incrociato, tra 3, 2, 1, vai, scendo, salgo col ginocchio e incrocio, salgo col ginocchio e incrocio, gomito ginocchio, vado giù, gomito ginocchio, vado in squat, salgo bene, squat, salgo bene, mantengo il ritmo, squat, salgo, gomito ginocchio, squat, salgo, gomito ginocchio, 10 secondi, non rallentare, respira, non andare in affanno, respira, resisti, 3, 2, 1, vamos, 10 secondi di recupero, riprendi il fiato, bicipiti in tre tempi, 5, 4, 3, 2, 1, gambe leggermente piegate, bicipiti completi, scendi fino al gomito, sali fino al gomito, guarda bene il video, memorizza il movimento, salgo intero, metà, salgo e allungo, guarda il video, fai bene l'esercizio, lento e controllato, 10 secondi ancora, respira, mantieni la respirazione sempre attiva, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo di 10 secondi, andiamo a terra, plank, ginocchio al gomito, tra 3, 2, 1, vamos, posizione del plank, addome contratto, braccia tese, avvicino il gomito al ginocchio, vai, vai, mantengo il ritmo, addome contratto, ginocchio che si avvicina al gomito, alternato destra e sinistra, destra e sinistra, non rallentare, trova il tuo ritmo e mantieni quel ritmo, 10 secondi, resisti, addome contratto, respirazione sempre attiva, 3, 2, 1, 20 secondi di recupero, riprendi il fiato, ripartiamo in step touch, 3, 2, 1, step touch, approfitta per respirare, muovi braccia e gambe, piccolo passo a destra e a sinistra, respira, riprendi il fiato, sciogli un attimo, 10 secondi e andiamo in v-step, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, v-step, due passi in avanti aperti, due passi chiusi dietro, apro, apro, chiudo, chiudo, mantengo il ritmo, faccio lavorare anche le braccia, 10 secondi, due passi in avanti aperti, due passi chiusi dietro, vai, 5, 4, 3, 2, 1, squat più calcio frontale, terzo e ultimo giro, PHA, vai giù in squat, sali, calcio deciso, calcio deciso, vado giù e calcio, vado giù e calcio, sincronizzo il movimento, utilizzo le braccia in fase di discesa, spingo calcio, spingo calcio, vado in squat e il calcio, vado in squat e calcio, resisti ancora, 5 secondi, non rallentare, non mollare, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, prendi i pesi, bicipita martello, più spinta in alto, respira, 2, 1, piego leggermente le gambe, apro, scendo, martello, apro, spinta e sopra, separo bene i movimenti, martello, apro, spinta e sopra la testa, lavoriamo su bicipiti, lavoriamo sui deltoidi, vai, mantengo il ritmo, martello, allargo, spinta e faccio toccare i pesi sopra la testa, resisti ancora e spingi, 5, 4, 3, 2, 1, ok, 10 secondi, passo laterale su mezzo squat, ci siamo, rimani focalizzato, respira, 2, 1, vai, piccoli passetti a destra e a sinistra, addome contratto, mantengo le braccia per l'equilibrio del movimento, testa dritta, respirazione attiva, approfitta per respirare in questa stazione, respira e mantieni il ritmo, piccolo passo a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, riprendiamo i pesi, tricipiti, busto a 45 gradi, 3, 2, 1, piego leggermente le ginocchia, busto a 45, gomito bloccato e allungo bene il braccio, allungo bene il braccio, vado a lavorare sul tricipite, testa dritta in linea col corpo, mantengo il ritmo, vai, addome contratto, allungo bene il braccio, stimolo l'esercizio nel tricipite, 10 secondi, resisti, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, appoggiamo i pesi, ritorniamo sulle gambe, affondi indietro alternato, 4, 3, 2, 1, vai, affondi indietro alternato, non tocco col ginocchio a terra, mi fermo prima, alterno bene destra e sinistra, addome contratto, respira, utilizza le braccia per migliorare l'equilibrio del movimento, non perdere l'equilibrio, mantieni il ritmo ancora 10 secondi, non rallentare che non è finito l'allenamento e l'esercizio, vai, resisti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ripartiamo con le spinte in alto, lavoriamo la parte sopra, 3, 2, 1, gambe leggermente piegate, spinte in alto sopra la testa, movimento lento controllato, respirazione attiva, respiro, tengo la testa dritta senza abbassarla o piegarla, tieni le sempre leggermente piegate per non scaricare sul lombare, 10 secondi, spinte sopra la testa, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, ritorniamo sulla parte bassa del corpo, squat più gomito ginocchio incrociato, 3, 2, 1, vai, squat, salgo, gomito ginocchio, squat, salgo, gomito ginocchio, respira, separa bene i tre movimenti, squat, salgo, squat, salgo, vengo su con la gamba, gomito ginocchio, gomito ginocchio, mantieni questo ritmo qua, non rallentare, non serve velocizzare ma mantenere il ritmo, ancora 10 secondi, vai, giù, sali, giù, sali, 3, 2, 1, recupero attivo, 10 secondi, riprendiamo i pesi, bicipiti in tre tempi, 5, 4, 3, 2, 1, guarda il video, bicipite completo, scendi fino al gomito, sali fino al gomito, scendo fino al gomito, salgo fino al gomito, mantengo bene il ritmo, cura bene la tecnica, allungo, salgo fino al gomito e chiudo, 10 secondi, tieni le gambe sempre leggermente piegate per non scaricare sul lombare, 3, 2, 1, recupero attivo, plank ginocchio al gomito, andiamo giù a terra, lavoriamo su addome lombare, vai, plank, gomito ginocchio, posizione di isometria, mantengo l'addome contratto, avvicino il ginocchio al gomito, 20 secondi, respira, alterna il movimento a destra e a sinistra, destra e sinistra, vai, respirazione attiva, addome contratto, resisti ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupera, 20 secondi, siamo arrivati alla fine del workout, ora curiamo la respirazione e lo stretching, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ottimo workout, curiamo la respirazione, prendo aria col naso, respiro e butto fuori l'aria con la bocca, inspiro ed espiro ancora, rallentiamo i battiti, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, stretching sulla spalla, scelgo un braccio, lo allungo, premo sul gomito, una pressione leggera e mantengo, respiro, respirazione sempre attiva, 5, 4, 3, 2, 1, passiamo sull'altro braccio, allungo, pressione leggera sul gomito, mantengo la posizione di stretching, 10 secondi, respira, approfitta sempre per respirare, ossigena il tuo corpo, respira naso, bocca, 3, 2, 1, stretching tricipite, vado dietro, prendo il gomito, leggera pressione e mantengo la posizione senza forzare il movimento, 10 secondi e poi cambiamo dall'altra parte, respira, 4, 3, 2, 1, cambio, l'altro braccio, piano piano, piego, spingo leggermente sul gomito, trattengo la posizione di stretching senza spingere, tengo la posizione, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, mobilizzazione della colonna, movimento lento e controllato, scarichiamo bene la schiena, la colonna, è un ottimo esercizio per prevenire gli infortuni, mantengo la posizione, vado su, in arco e torno indietro piano piano, seduta sui talloni, andiamo giù, vado giù lentamente, mani in avanti, testa rilassata, glutei sui talloni, mantengo questa posizione di stretching per la schiena e per le gambe, respiro, mi rilasso, ancora 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, vieni su piano piano, ok, il tuo super workout PHA è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos! Grazie a tutti!